Benvenuti alle Daily Tecnose di Mr. Gadget, ultimo appuntamento della settimana, peraltro settimana che si conclude con tantissime novità. In primo luogo iPhone SE nella sua versione con una delle colorazioni secondo me più belle tra l'altro, questo silver che è combinato con il bianco secondo me molto gradevole. Ho letto dappertutto Ritorno al Passato, Back to the Future, insomma questa è l'indicazione che è stata data, però vi devo dire che dopo averlo utilizzato per qualche ora, insomma lasciamo stare i bloggers, lasciamo stare i maniaci di tecnologia, il pubblico apprezzerà questo telefono tantissimo e ne compreranno veramente tanti, guardate sarà un successo sicuramente notevole. A fianco all'iPhone SE anche il nuovo iPad Pro nella versione 9.7 con la tastiera tra l'altro la Smart Keyboard e qui nella versione il layout americano Accurity, ma la posizione poi di chioccio e tutto il resto insomma è quella americana, però vi devo dire che l'utilità di questa tastiera soprattutto tenendo appunto che ci sono gli stessi shortcuts che trovate sul computer se siete utenti Apple è veramente notevole. Ma non è l'unica notizia ovviamente che riguarda questa giornata, intanto partiamo da Tesla che ha chiuso la prima settimana di prenotazioni del Model 3 con 325.000 prenotazioni, Marchionne steso al tappeto, sogna un risultato di questo genere e vi prego di non insultarmi dicendo che sono contro la Fiat e cose di questo genere perché non è così, però insomma è un dato veramente importante, 325.000 prenotazioni. Torno un secondo al mondo di Apple perché vi ricordate lo scontro FBI, Apple, FBI ha sbloccato l'iPhone 5C del terrorista di San Bernardino, quindi si è placato un attimo la situazione ma dice l'FBI quel metodo non potrebbe essere utilizzato con iPhone più recenti. Terroristi del mondo sappiate dunque di evitare l'iPhone 5C. E poi curiosità, una radio americana, alcune radio americane sono state hackerate nei giorni scorsi, che cosa si poteva hackerare delle radio? Podcast. I podcast delle stazioni sono stati deviati verso i programmi, i prodotti, le registrazioni di un'organizzazione contro le pellicce. Tutto sommato una situazione curiosa, niente di grave tra l'altro neanche il risultato finale. Ultima cosa, Windows 10 Mobile aggiungerà probabilmente nella nuova versione del software che si chiama Redstone, in codice ovviamente, anche il tasto per la fotocamera sul blocco dello schermo. Un'innovazione che cambierà il mondo. Io, uguale a me stesso, alle 14.30 vi aspetto su Radio Number One per Mr. Gadget. Buon weekend, ciao!